Dall'esposizione universale ha tracciato per il Gran Premio di Formula E nel 2018. Leur, il quartiere più a sud di Roma, compie 80 anni. Voluto da Benito Mussolini, la prima pietra di un edificio fu posta nell'ottobre del 1937. Emblema della Roma mussoliniana appunto, mix tra classico e moderno, con ampi biali e palazzi di marmo bianco. Leur è stato immortalato dalla pittura al cinema. Un quartiere immerso nel verde dove la funzionalità della sua struttura urbanistica primeggia rispetto ai quartieri che sono cresciuti attorno, ispirato, secondo l'ideologia del fascismo, all'urbanistica classica romana, apportandovi gli elementi del razionalismo italiano. La struttura prevede un impianto vario ad assi ortogonali ed edifici architettonici maestosi e imponenti, massicci e squadrati. Nel 2018, intorno a questi palazzi, si svolgerà il Gran Premio di Formula E. I bolidi elettrici si sfideranno nel quartiere che guarda al futuro.